In un piccolo paesino della Sicilia viveva un ragazzo vivace e curioso, chiamato Marco. Marco era sempre stato affascinato dalla medicina fin da quando era bambino. La sua curiosità era stata alimentata dalle storie di suo nonno, un medico di famiglia amato e rispettato nella loro piccola comunità. Queste storie, piene di compassione e dedizione, avevano seminato in lui il desiderio di seguire le orme del nonno. Così, dopo aver superato con successo gli esami di ammissione, Marco iniziò il suo viaggio nel mondo della medicina, iscrivendosi all'Università di Medicina e Chirurgia. Gli anni universitari furono intensi e formativi. Marco si dedicò con passione allo studio, affrontando con determinazione le sfide che ogni esame e lezione presentavano. La vastità dell'anatomia umana, la complessità delle malattie e la precisione richiesta nelle cure lo affascinavano e lo spaventavano allo stesso tempo. Ogni notte trascorsa sui libri, ogni lezione seguita, ogni pratica in laboratorio e ogni turno di tirocinio in ospedale contribuivano a forgiare in lui non solo un futuro medico, ma anche una persona più forte e resiliente. Durante gli ultimi anni di università, Marco iniziò a interessarsi particolarmente alla cardiologia. La complessità del cuore umano e l'importanza vitale della sua funzione lo affascinavano. Decise quindi di specializzarsi in questo campo, spinto dalla volontà di salvare vite e di stare accanto ai pazienti nei momenti più critici della loro esistenza. La scelta non fu facile, data la competitività e l'alta responsabilità della specializzazione, ma Marco era guidato da una passione inestinguibile e da un profondo senso di missione. La sua determinazione lo portò a eccellere durante il corso di specializzazione, dove le lunghe ore in ospedale, fra interventi e notti insonni, diventarono la sua routine. Marco imparava rapidamente, assorbendo ogni dettaglio, ogni procedura, ogni caso clinico come preziosa lezione. Era mosso da un desiderio insaziabile di conoscenza, dalla volontà di fare la differenza nella vita dei suoi pazienti e dalla speranza di contribuire, anche solo in minima parte, al mondo della medicina. Il primo giorno di Marco in ospedale, come medico specializzando in cardiologia, fu un momento che aveva sognato per anni e che lo riempiva di un misto di eccitazione e nervosismo. In quel fatidico giorno, mentre varcava le porte dell'ospedale, sentiva il peso della responsabilità sulle sue spalle. Era il momento di mettere in pratica tutto ciò che aveva imparato, di affrontare la realtà della medicina al di fuori delle aule universitarie e dei libri di testo. Il reparto di cardiologia era animato, pieno di professionisti che si muovevano con sicurezza, pazienti che attendevano cure e famiglie ansiose. Marco fu accolto dal dottor Mancini, un cardiologo esperto e rispettato, noto per la sua abilità clinica tanto quanto per la sua dedizione nell'insegnamento ai giovani medici. Il dottor Mancini divenne subito il mentore di Marco, introducendolo al team e guidandolo attraverso le prime procedure e visite. Il primo incarico di Marco fu assistere a un'angioplastica, un procedimento per ripristinare il flusso sanguigno in un'arteria coronarica bloccata. Osservare da vicino, sotto la guida esperta del dottor Mancini, fu un'esperienza illuminante. Marco si rese conto della precisione e della calma necessaria in sala operatoria, qualità che desiderava ardentemente sviluppare. Nel corso della giornata, Marco si confrontò con le sfide della comunicazione con i pazienti e le loro famiglie. Imparare a trasmettere notizie, sia positive che preoccupanti, in modo compassionevole e chiaro, fu una lezione preziosa. Il dottor Mancini lo incoraggiò a vedere ogni interazione come un'opportunità per offrire conforto e speranza, oltre che cure mediche. Uno dei momenti più formativi fu quando Marco, sotto l'occhio vigile del suo mentore, condusse il suo primo esame autonomamente. La tensione di prendere decisioni importanti per la salute di un paziente, l'analisi di tutti i sintomi, la scelta degli esami diagnostici appropriati e l'interpretazione dei risultati furono sfide che lo misero alla prova, ma che, al tempo stesso, accrescevano la sua fiducia e competenza. Il dottor Mancini non mancava mai di sottolineare l'importanza dell'apprendimento continuo e dell'umiltà. La medicina, diceva, è una scienza in costante evoluzione. Quello che sappiamo oggi potrebbe cambiare domani, rimani sempre curioso, sempre aperto a imparare. Queste parole risuonavano profondamente in Marco, che vedeva nel suo mentore l'incarnazione del medico che aspirava a diventare. Dopo alcune settimane di intensa formazione e apprendimento quotidiano, Marco si trovò di fronte a un caso che avrebbe messo a dura prova tutte le sue capacità acquisite fino a quel momento. Un paziente di mezza età, il signor Rossi, fu ricoverato d'urgenza per un dolore toracico acuto. I sintomi suggerivano un infarto, ma c'era qualcosa di insolito nel quadro clinico che non quadrava del tutto con i casi tipici che Marco aveva studiato. Il team di cardiologia si riunì per discutere il caso. Dopo un'analisi iniziale degli esami, un elettrocardiogramma che mostrava anomalie non specifiche e risultati di laboratorio che indicavano marcatori cardiaci elevati, era chiaro che il signor Rossi richiedeva un approccio diagnostico più approfondito. Marco suggerì di eseguire un'angiografia, un esame che avrebbe potuto fornire una visione dettagliata delle arterie coronarie del paziente. Sotto la supervisione del dottor Mancini, Marco partecipò attivamente all'angiografia. Quello che scoprirono fu sorprendente. Il signor Rossi soffriva di una rara anomalia coronarica, una condizione difficile da diagnosticare e che poteva essere fatale se non trattata tempestivamente. La situazione richiedeva un intervento chirurgico immediato. Marco fu coinvolto in ogni fase della pianificazione dell'intervento. Il team discusse approfonditamente la strategia chirurgica, tenendo conto della complessità dell'anomalia e del miglior approccio per minimizzare i rischi. Marco si immerse nella letteratura medica, cercando casi simili e le ultime ricerche sull'argomento, contribuendo così alla strategia operativa con informazioni aggiornate. Il giorno dell'operazione, Marco osservò con attenzione mentre il team chirurgico procedeva con l'intervento. La tensione in sala operatoria era palpabile. Ogni movimento era misurato e preciso. L'operazione si rivelò un successo e il sollievo che si diffuse tra i membri del team fu immenso. Il signor Rossi si riprese completamente, grazie all'intervento tempestivo e all'eccellente lavoro di squadra. Questo caso fu un momento cruciale nella formazione di Marco. gli insegnò l'importanza di un approccio olistico al paziente, dove l'intuizione, l'esperienza e la collaborazione interdisciplinare si uniscono alla scienza medica per risolvere casi complessi. Vide come il coraggio di proporre soluzioni innovative e l'umiltà di cercare conoscenza oltre i propri limiti potessero fare la differenza nella vita di un paziente. Appena Marco iniziò a sentirsi più a suo agio con la routine quotidiana dell'ospedale e con i casi complessi che la cardiologia gli presentava, la tranquillità fu interrotta da un'emergenza sanitaria globale, l'arrivo di una pandemia virale. Questo evento senza precedenti mise sotto pressione tutto il sistema sanitario, incluso il reparto di Marco. Con l'aumentare dei casi, l'ospedale fu costretto a riorganizzarsi rapidamente per far fronte all'impennata di pazienti affetti dal virus. Anche se la specializzazione di Marco era la cardiologia, come molti altri medici, fu chiamato a supportare il reparto di malattie infettive, dove la necessità di assistenza medica era più critica. La sua routine quotidiana cambiò drasticamente, passando lunghe ore in tuta protettiva, mascherina e visiera, assistendo pazienti in gravi condizioni. Marco e la sua equip dovettero adattarsi rapidamente a nuove procedure, protocolli e a un carico di lavoro senza precedenti. La pressione era immensa, con decisioni difficili da prendere quotidianamente per cercare di salvare il maggior numero possibile di vite, spesso con risorse limitate. La paura del contagio era sempre presente, così come il timore di portare il virus a casa con sé. La pandemia fu un ricordo costante di quanto fosse fragile la vita e di quanto fosse prezioso il lavoro svolto in ospedale. Per Marco, divenne anche una fonte di motivazione per continuare a imparare, a crescere professionalmente e a dedicarsi con ancora più passione alla sua vocazione di aiutare il prossimo attraverso la medicina. Oggi, Marco è diventato un cardiologo affermato e rispettato, con una posizione di leadership all'interno del reparto di cardiologia al Policlinico di Palermo, dove ha iniziato come specializzando. Gli anni trascorsi a fronteggiare sfide mediche complesse, inclusa la crisi sanitaria globale, hanno notevolmente arricchito la sua esperienza e la sua competenza professionale. Adesso, oltre al suo lavoro clinico, Marco svolge un ruolo cruciale nella formazione e nel mentoraggio dei giovani medici che si avvicinano alla specializzazione in cardiologia, trasmettendo loro la conoscenza, l'etica e la passione che ha guidato il suo percorso. Grazie per la visualizzazione! Se non è un grosso problema, supportaci cliccando like, commentando, iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale. Grazie per la visione! Grazie.